...e accettare tutte quelle che sono le iniziative... Una stretta che è stata definita da tanti soft è quella dell'ordinanza che Acquaroli nella giornata di ieri ha firmato a Palazzo Raffaello. Il punto più determinante tra quelli enunciati dal governatore però è sicuramente quello che riguarda le scuole superiori. È previsto a partire da sabato il 50% di didattica a distanza per gli alunni del triennio, mentre per quelli delle classi prime e seconde il piano scolastico rimarrà invariato. Ma il nodo della questione non riguarda la sicurezza scolastica, infatti da come fa sapere il governatore Acquaroli il problema principale è proprio il trasporto pubblico locale che non riuscendo a gestire il distanziamento sociale all'interno del mezzo porta alla creazione di assembramenti potenziali fonti di contagio. Oltre 3.000 studenti pendolari in meno che seguiranno le lezioni da casa per cercare di decongestionare gli autobus fin troppo pieni. Si abbassa anche la soglia della capienza consentita dall'80% al 60% per permettere un maggiore distanziamento all'interno dei mezzi. I mezzi rimangono quelli che ci sono adesso e quindi saranno automaticamente molto meno affollati. Crediamo insomma che sia una risposta a quella percezione di affollamento che c'era prima. Siccome i ragazzi che vengono a scuola vengono da varie origini dell'entroterra eccetera quindi non sempre saranno costanti all'interno dei singoli mezzi quindi noi monitoreremo perché magari faccio l'esempio nel 50% di un giorno tutti arrivano da magari potrebbero arrivare statisticamente non è così ma potrebbero arrivare in più qualche volta in più da una zona e nella rotazione successiva più da altre zone quindi noi saremo sempre attenti a verificare che il carico a bordo sia il più leggero possibile. Una sperimentazione che durerà circa tre settimane fino al 15 di novembre al termine delle quali fa sapere il governatore si esaminerà l'andamento della curva dei contagi e si deciderà se occorrerà o meno stringere la cinghia. Intanto Adribus fa sapere Massimo Benedetti continua ad impegnarsi per la sicurezza e la salute dei passeggeri. Stiamo sperimentando su una decina di veicoli, degli apparati che intervengono sia sulla sanificazione dell'aria a bordo cioè persona proprio inserita all'interno dei canali di ricircolo dell'aria condizionata con un processo fisico-chimico di una decina di mezzi di afferchiature che ad autobus chiuso naturalmente vuoto sprigiona un vapore reposandosi sulle superfici, contiene naturalmente un potente disinfettante abbatte la carica batterica e dei virus per oltre il 99,9%. Il messaggio che deve passare è che comunque i nostri mezzi sono sicuri le prossime ore saranno leggermente più vuoti ma ancora più sicuri.